In occasione del meeting del mare tenuto a Sapri, i carabinieri della compagnia di Sapri hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale, nonché le azioni di contrasto e reati cosiddetti di larga diffusione. Nel corso dei tre giorni sono stati impiegati 30 militari, unitamente da alcune unità cinofile di Sarno. Nel corso dei vari controlli, i militari dell'aliquota radiomobile hanno tratto in arresto un uomo, classe 1977, residente a Napoli, il quale, in stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, dopo aver creato diversi problemi ad una struttura alberghiera di Villa Mare, si è scagliato contro i militari dell'autoradio, intervenuti a seguito della richiesta di aiuto di alcuni cittadini. Nonostante l'uomo riuscesse ad aggredire due operanti, procurando loro alcune lieve lesioni, i due carabinieri riuscivano a bloccarlo e successivamente, condotto presso gli uffici del comando di compagnia, è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di violenza e resistenza pubblico ufficiale. Allo stato attuale, l'uomo si trova ristretto presso la casa circondariale di Salerno. Contestualmente, i militari della stazione di Sapri hanno deferito a piedi libero, per guida in stato di ebbrezza, un altro uomo, classe 1956, residente a Sapri, fermato alla guida con alto tasso alcolico. Mentre sono stati segnalati alla prefettura di Salerno, quali assuntori di sostanza superfacente, otto ragazzi, trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish per uso personale.